e sua sorellina in che anno vor dovrebbe avere all'incirca otto anni e cinque anni che qua con noi diana è una greyhound e adesso ha sei anni e da due anni che con noi ciri è stato dotato per primo il 30 giugno del 2018 ha cinque anni ha quasi sette anni 9 agosto quindi sono praticamente due sorelle Zeus ha otto anni sta con noi da aprile 2015 quindi sono cinque anni che sta con noi mentre Amanda ha tre anni e mezzo sta con noi da maggio 2019 noi l'abbiamo da un pochino più di due anni dal 22 ottobre del 2016 in quanti anni ha adesso? adesso ha circa quattro anni è con noi dal 2014 è arrivata il primo aprile 2012 teoricamente dovrebbe avere 13 anni e mezzo è arrivata cinque anni papa nel prossimo mese Emma compie dieci anni Covino è con me da due anni e mezzo anche Covino il prossimo mese il giorno 20 compirà tre anni per un po' di tempo sul divano poi si trasferisce nel letto di Davide mentre Zoe sta tutta a notte sul divano e quando sente suonare la sveglia viene di là e si intufla sotto le coperte questi due monolocali il divano il letto e altre cucce spappagliate per la casa allora malgrado abbiano due cucce che evidentemente sono ben fornite e attrezzate per la nanna loro preferiscono dormire con il divano poi la cuccia durante il giorno e invece durante la notte appena noi ci addormentiamo salgono sul letto c'è questo lettone, c'è il letto di mia figlia, il letto dei miei altri figli, c'è il lettone degli ospiti su, c'è il divano, il divano due, il puff insomma dipende il momento della giornata uno a sinistra e uno a destra accanto al nostro letto in parte al nostro letto quindi sul cuscino, sul suo cuscinocco quindi alza la coperta e adesso infina sotto il loro posto preferito è la loro cameretta dove hanno il divano e tutto per loro in questo caso sono golosi i loro due? sì, tanto porta di fame per eccellenza e no, lei è un po' più riservata, è un po' più discreta pecca della Flo è che è un cane famerico www.marcoparet.com www.marcoparet.com www.marcoparet.com